I velo-ok del progetto Noi Sicuri stanno funzionando a Viadana sulle frazioni nord. Si tratta dei dispositivi di colore arancione che devono sempre essere abbinati alla presenza di una pattuglia per poter rilevare le infrazioni di velocità e dare poi la multa. Tuttavia la prefettura di Mantua ha detto no al posizionamento di postazione fisse di autovelox nelle frazioni di Casaletto e Squarzanella, comune di Viadana. Come detto, la strumentazione del progetto Noi Sicuri sta dando i risultati sperati. Lo ha reso noto Romano Bellini, assessore alla sicurezza del comune di Viadana, in risposta a un'interrogazione, a risposta scritta, di Adriano Saccani, consigliere di minoranza in quota PD. Il progetto Noi Sicuri, ha spiegato Bellini, è stato tema di parecchi incontri sul territorio. Per poterlo divulgare il più possibile a luglio 2022 sono iniziati monitoraggi sui punti ritenuti critici e sensibili al passaggio di auto a forte velocità. Le infrazioni rilevate sono arrivate anche all'87% del totale dei casi. Da qui la decisione è di installare nove contenitori a terra e uno su palo, regolarmente omologati. È stato appurato un calo delle infrazioni minori, del 33,7%, e di quelle invece più gravi, addirittura dell'83,3%. Verrà comunque effettuato un nuovo monitoraggio per controllare che non si tratti di un cosiddetto fuoco di paglia. In particolare a Squarzanella si è passati da una velocità media di 65,8 km all'ora a una velocità di 56,03 km all'ora. Numeri non dissimili sono quelli ricavati dal confronto a Bellaguarda e Casaletto nel periodo luglio 2022 col settembre dello stesso anno, ovvero dopo l'installazione. A Squarzanella il calo è stato dai 62 km all'ora ai 52 km all'ora dopo l'installazione, mentre a Casaletto si è passati addirittura dai 71 km all'ora in una strada che prevede il limite dei 50 ai 55,7 km all'ora.